Ciao ragazzi, scusate se sto facendo questo video male con l'angolazione dal basso verso l'alto e non il contare tutto, ma c'è un motivo. Mi si è rotto il computer e non ci posso fare niente. Il problema è che praticamente o la scheda grafica si è saltata, il che sarebbe meglio perché i due per tre me lo riparano, o la cosa peggiore sarebbe che è saltata la scheda madre. Vabbè, roba che voi forse non capite, se lo capite scrivetelo nei commenti e basta. Però questo era per dirvi che non ci saranno video per un po', per quanto non ho idea, probabilmente farò un post su Instagram quando mi riarriva il computer e lì potrò continuare a montare video. Ah, sta da sé anche lo speciale perché la parte 1 era praticamente pronta, la parte 2 non l'ho iniziata a montarlo, ma non solo, tutti i file sono dentro il computer, compresi anche quelli per i prossimi video. Quindi per ora non potrete avere nessun video, mi spiace ma è così. Grazie per aver visto il video e abbiate pazienza e restiamo uniti. Grazie per aver guardato il video.